Oggi parliamo di un trucco Android che vi permetterà di tenere sotto controllo il vostro smartphone o il vostro tablet. Se siete rimasti stupefatti dalla quantità di memoria RAM che ormai i top di gamma Android integrano nei dispositivi, parliamo di 6, addirittura 8 GB, praticamente come un computer, e vi chiedete ma io non ho veramente bisogno di tutta questa memoria RAM? Questo è il video che fa per voi. Vi farò vedere un metodo per vedere la memoria RAM occupata nel vostro dispositivo e tenerla sempre a portata di mano in modo tale da capire quanta memoria RAM avete libera e anche di procedere con la pulizia della RAM sempre sfruttando questa applicazione gratuita che vi farò vedere a brevissimo. Io sono Dario Caliendo e benvenuti in un nuovo video di TechFanPage. Per visualizzare in tempo reale la memoria RAM disponibile nel vostro dispositivo il mio consiglio è quello di installare RAM Meter. È un'applicazione gratis disponibile nel Play Store che in effetti è veramente molto semplice da utilizzare. Una volta scaricata e installata l'applicazione al primo avvio vi ritroverete di fronte a questa interfaccia grafica. Un'interfaccia grafica molto semplice. La prima cosa che dovete fare ovviamente è scegliere la voce Activate the RAM Meter per vedere comparire in alto la quantità di memoria RAM in questo caso disponibile. Quindi a me adesso sono disponibili 1,5 GB su ben 6 GB. Nelle impostazioni dell'applicazione potete scegliere di modificare alcune cose. Potete attivare anche il controllo della CPU, dell'utilizzo della CPU, potete attivare l'utilizzo della rete Wi-Fi o della rete cellulare e anche addirittura la qualità del segnale di connessione ma a noi attualmente interessa solo quello relativo alla RAM. Ma se andate nelle impostazioni potete scegliere diverse cose. Secondo me la cosa importante è attivare Auto Start on boot e potete anche scegliere se far visualizzare la RAM disponibile oppure la RAM utilizzata nel vostro dispositivo. Vedete adesso ho scelto RAM utilizzata ed è uscito 3,8 GB. Qualora la vostra RAM dovesse essere troppo piena potete utilizzare questa funzione RAM Cleaner con la quale il sistema spegnerà i processi che consumano più RAM. Ovviamente tenendo premuto il tasto verde vedrete che vengono elencati tutti i processi che sono stati stoppati e la RAM diventerà insomma più performante perché sarà pulita e quindi ci sarà maggiormente disponibile. Tenere sotto controllo la RAM del proprio smartphone è molto importante ma non cadete nell'errore di vedere poca memoria RAM occupata e pensare che non ve ne serve di più. In realtà il sistema operativo occupa la memoria RAM proprio in base a quella disponibile nel mio Note 8 per esempio con 6 GB di RAM. La memoria RAM occupata senza fare proprio nulla è di 4 GB. Ovviamente in un dispositivo con 4 GB di RAM non potrebbe essere 4 GB la memoria occupata e questo è un servizio che utilizza proprio il sistema operativo per ottimizzare proprio la memoria utilizzata. Io sono Dario Caliendo l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage.